Ciao a tutti, sono Gianluigi Bonanomi, mi occupo di comunicazione digitale da 25 anni, il mio lavoro è quello di fare il formatore sulla comunicazione digitale, invece il mio hobby è quello di parlare di uso consapevole della tecnologia in famiglia. È un pallino che ho da qualche anno, da quando sono diventato 6, quasi 7 anni fa genitore, quindi ho deciso di fare quest'opera di divulgazione, per cui da tanto tempo facevo serate, webinar, facevo dei workshop, facevo degli incontri nelle classi, incontri sui pericoli della rete appunto per genitori, incontri soprattutto di navigazione familiare, genitori e figli insieme, ma mi mancava uno strumento anche abbastanza fresco, veloce e potente per divulgare comunque tutto quello che io imparo e soprattutto la possibilità di divulgare le interviste che settimanalmente faccio e allora mi sono inventato un podcast, questo podcast si chiama Genitorialità e Tecnologia, lo potete trovare praticamente ovunque, a parte che sul mio sito ha gianluigi buonanomi.com slash podcast, ma poi la distribuzione avviene davvero ovunque, quindi a partire da Spreaker che è una piattaforma podcast, ha delle piattaforme che forse state già utilizzando come Spotify, come iTunes, come YouTube e quindi potete in qualche modo intercettare il mio podcast, ma soprattutto vi invito a fare delle richieste, volete delle interviste specifiche, volete un approfondimento su alcuni temi legati appunto all'uso della tecnologia? in famiglia? Allora scrivimi a info-gialuigi-buonanomi.com, ribadisco appunto comunque che mi trovi ovunque, podcast Genitorialità e Tecnologia. Buon ascolto!